Musica Ben trovati, ben trovati telespettatori a Studio Telequattro, buonasera, in compagnia del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, bentrovata. Buonasera, grazie. Allora parliamo di geografie, la rassegna letteraria, giunta alla sua quinta edizione, sindaco, una rassegna davvero che diventa itinerante nella città dei cantieri per riscoprire la cultura stessa di Monfalcone, ovviamente con tantissimi ospiti, molti ospiti famosi, un ricchissimo programma, temi anche molto sensibili di cui parlare. Si parte fra pochissimo, si parte il 22, sindaco? Si parte il 22, come ha detto lei la quinta edizione, siamo andati veramente crescendo anche nella attrattività dell'iniziativa, ci lavoriamo tutto l'anno e poi riusciamo anche a preparare dei programmi così di grande qualità. Quest'anno Geografie è già stata avviata come programmazione preventiva in altre città, Trieste piuttosto che Gorizia, siamo stati anche nei comuni del mandamento per la prima volta, quindi siamo stati a Ronchi, siamo stati in tutti i rioni di Monfalcone, devo dire con un grandissimo successo anche di partecipazione, perché Geografie ha un valore importante anche di identità, di presenza sul territorio, di tutte le iniziative che facciamo. Monfalcone in realtà non inizia a raccontare la lettura e a leggere con il festival Monfalcone Geografie, lo fa negli anni e poi raggiunge questo importante apice con questo festival che quest'anno diventa anche variegato, è un pop-up perché ha anche dei giornalisti e delle presenze che sono piacevoli e magari hanno dei contenuti più morbidi, però poi ci sono, come ha detto bene lei, anche altre situazioni in cui i contenuti sono molto importanti, molto densi. Partiamo il 22 con Paolo Crepet e poi via via durante le giornate riusciamo a fare georagazzi di mattina, ci siamo rivolti alle scuole in maniera importante, anche con una grande collaborazione, devo dire anche delle scuole superiori, siamo riusciti anche a condividere 50 ore con il liceo e con il Pertini ad esempio e poi anche con i ragazzi e i bambini più piccoli, con delle iniziative molto belle che durano tutti i giorni del festival, quindi georagazzi e poi al pomeriggio e alla sera iniziative invece con i giornalisti e gli autori di libri che hanno presentato durante questo anno passato i loro libri. Noi diciamo che ogni giorno offriamo un'opportunità anche di confronto, penso importante, dopo Crepet abbiamo Cerno, C'è Capezzone, insomma veramente delle iniziative importanti che abbiamo però abbinato anche al giro ad esempio la conoscenza della città con delle passeggiate che sono previste, sono ovviamente già tutte organizzate con delle passeggiate anche per scoprire ad esempio il rione di Panzano. Uno dei temi che verrà trattato ad esempio è quello dell'amianto che ci sta molto a cuore e quindi quando parli di amianto ovviamente non puoi non parlare di cantiere, quando parli di cantiere non puoi parlare che di Panzano che è stato ovviamente quel quartiere che è nato dalla lungimiranza, dalla grande intelligenza dei fratelli Kosulic e che ha in sé, nel suo corpo ancora molto da raccontare. E poi la Rocca, quindi Monfalcone e Geografie è una partenza che ogni anno è diversa in un viaggio veramente di esplorazione fantastico. Ospiti importanti, c'è il tema, ci sono temi importanti ma c'è anche leggerezza come si vuole ovviamente, c'è anche Ezio Greggio. C'è anche Ezio Greggio. Mi ricordavo bene. Si ricorda benissimo e c'è Ezio Greggio alle 21 a teatro comunale e ci racconterà una vita di avventure, di incontri, di scherzi e di risate il 23 marzo. Ecco, quindi noi il 23 alle 21 abbiamo anche diversificato un po' gli orari per dare la possibilità a tutti di partecipare. Ezio Greggio a teatro alle 21, Capezzone alle 11 del sabato 25, ecco ce n'è per tutti i gusti e per tutte le opportunità. Ma la cosa secondo me molto importante da dire è che questo festival nasce da un'idea di Roberto Kovac che ha condiviso con me all'epoca, 5 anni fa, questa possibilità. Noi abbiamo le navi che vanno, abbiamo pensato ma perché non si parla, non si ragiona anche degli intrecci che il mondo offre a chi viaggia ma anche a chi lo ascolta, a chi lo legge. E in questa idea abbiamo voluto includere un po' tutte le occasioni anche di crescita, per questo Geo Ragazzi, per questo la passeggiata. Ed è diventata veramente un'occasione importante per tutti, quando l'anno scorso abbiamo fatto il debriefing, abbiamo ragionato sugli errori o sulle cose che potevamo migliorare, abbiamo voluto crescere anche da questo punto di vista. E penso che in questi 5 anni l'obiettivo almeno previsto come programma abbia raggiunto l'apice quest'anno. Difficile superarlo quindi questo momento, ma nulla è impossibile. Tra l'altro devo dire che è un programma ricchissimo, avete cercato di dare, l'ha detto prima lei Sindaco, la possibilità di riuscire a seguire se uno volesse anche un po' tutto. Non è facile perché sono veramente tanti gli appuntamenti in calendario, però avete, come dire, messo i tasselli nella maniera più corretta. Chi vuole seguire i vari spettacoli, i vari appuntamenti, le passeggiate a Monfalcone lo può fare. Tra l'altro la rassegna è stata presentata al Museo della Cantiristica che io invito tutti ad andare a visitare per chi non lo avesse mai visto. Un colpo d'occhio fantastico e racconta la storia di Monfalcone non solo. Quindi insomma anche questo tema di unire la cultura alla città simbolo della produttività da un certo punto di vista se vogliamo. Perché di Monfalcone c'è ancora molto da scoprire, oltretutto state anche risistemando il centro storico. Ma guardi, Monfalcone secondo noi è una città che in questi anni ha attraverso anche i cittadini che hanno ripreso forse anche quello spirito di, tra virgolette, di corpo proprio, di senso di appartenenza e sta riscoprendo le tante opportunità che offre. Lei adesso giustamente citava il Museo della Cantiristica. Guardi, quando uno lo visita poi esce e dice ma ci porterò anche mio fratello, mio figlio, mio... Perché è tra l'altro significativo da tanti punti di vista. È la vita dei nostri genitori e dei nostri nonni. L'altro giorno quando abbiamo presentato il Festival di Geografia è lì. L'abbiamo fatto non solo perché è l'unico, in Italia è l'ultimo, è l'unico museo di archeologia industriale accanto ad un sito produttivo attivo, ma perché lì c'è il nostro cuore. Quell'edificio nel tempo è stato l'albergo degli operai celibi. Dentro c'è il Memoriale Amianto. Quel luogo ci fa venire ancora i brividi, capisce? Quindi ecco, quel museo per noi rappresenta un po' la gioia e anche l'orgoglio di quando i nostri genitori ci raccontavano il varo delle navi perché lo vivevano e poi anche però la sofferenza di quello che è successo perché c'era questo amore verso il lavoro che hanno avuto e non sono stati premiati per questo. Ed è una delle ragioni per cui ho molto voluto quest'anno che ci fosse all'interno della programmazione di geografie una sezione dedicata all'amianto. Non se ne parla mai abbastanza, non c'è mai troppo rispetto verso la sofferenza che ancora oggi purtroppo su questo molte famiglie vivono perché la latenza di questa malattia è lunghissima. Però c'è anche la gioia della riscoperta di una città che offre tanto, che ha dei simboli. Il centro storico oggi lo stiamo riqualificando abbiamo riscoperto molto anche delle nostre radici. A breve inaugureremo il museo municipio e lì racconteremo anche che cosa mangiavano all'epoca i nostri concittadini. Ma è possibile riuscire a fare la visita al sentiero della grande guerra, alla rocca. Ecco, è una città che viaggia all'interno di se stessa e racconta e si fa raccontare. Il festival vuole essere anche un po' questo. Non siamo la città dei cantieri e basta. Monfalcone è tanto e i suoi cittadini un po' soffrivano nell'averlo dimenticato. Ecco, noi anche con queste iniziative, con la valorizzazione della cultura, con la valorizzazione dei percorsi che non sono solamente questi ma che sono anche la possibilità di visitare delle mostre di grande prestigio, di poter visitare una città che ha addirittura un'acqua termale, che ha un museo della canteristica di questo pregio, che ha una galleria che ha un valore infinito. A breve avrà un altro museo che ha una rocca da cui partire e anche a cui arrivare attraverso anche dei sentieri naturalistici importanti. Beh, ha capito che può dire la sua con ambizione e con molta dignità. La geografia racconta storie di persone, di luoghi, di momenti, di situazioni. Anche questo progetto di inclusività, di scegliere anche momenti ad hoc anche per i ragazzi, per i più giovani, l'importanza è che a livello culturale comunque le nuove generazioni siano coinvolte nella città in cui vivono, ma perché no, anche chi viene da fuori può ovviamente ammirare la rassegna letteraria Emo Falcone stessa. Sì, sì, infatti il passaggio che abbiamo fatto lo scorso anno è stato proprio quello di includere le scuole, di lavorare con gli insegnanti, con i ragazzi. E tutte le mattine sono dedicate a Geo Ragazzi, che è stato un passaggio importantissimo anche perché riesce ad avvicinarti alla lettura, ad esempio, anche in questo modo con il divertimento per i bambini più piccolini, ma poi anche con i racconti più importanti dei ragazzi e poi con i giovani, delle superiori, che hanno fatto loro stessi dei percorsi anche di grande condivisione molto attivi. Quindi è un festival sempre più completo con la partecipazione tra l'altro anche delle case editrici, con la presenza delle nostre librerie, perché poi vede anche c'è tutto un discorso in cui io confido e in cui credo, che è quello dell'intreccio tra la possibilità di fare cultura, perché vale, perché è il nostro futuro, ma anche la possibilità di dare opportunità ai negozi, ai locali e questo è un modo per riuscire a crescere da tutti i punti di vista. Riuscire a condividere anche un percorso economico di sviluppo vuol dire anche riuscire a crescere dal punto di vista occupazionale con i servizi. Questo rientra quindi in un puzzle di ragionamenti che ovviamente in questo caso ci dà delle soddisfazioni per il risultato. Adesso tra l'altro con Pordenone Legge che è partner fondamentale assieme al comitato scientifico che è capitanato da Roberto Covaz, ma Pordenone Legge ci ha dato una spinta iniziale, ci ha dato l'esperienza, ma poi adesso condivide con noi questo percorso di crescita, riesce a dare un valore aggiunto addirittura rispetto alla meravigliosa organizzazione di Pordenone Legge perché noi partiamo prima. Ecco, quindi una bella opportunità penso per il Friuli Venezia Giulia. Quanto ci mette del suo sindaco in tutto questo? Perché poi lei è molto impegnata, si sveglia prestissimo la mattina, sta cercando di dare un volto a Monfalcone sempre migliore, quindi anche con le riqualificazioni di cui ha parlato, quindi anche geografie, ne parla con molto orgoglio proprio perché lei stessa ci mette l'anima in quello che fa. Ne parlo con molto orgoglio perché, guardi, io vivo questi, sono sei anni ormai, come se fosse un po' una missione, devo dire, no? Ecco, ci tengo e la considero casa mia, nel senso dell'amore che porti verso la tua famiglia e sono la prima a dire che Monfalcone ha fatto grandi passi in avanti perché tutti abbiamo creduto che così doveva essere. c'è la spina dorsale che avevamo perso per troppi anni, è tornata e questo ha consentito e consente di fare, di avere una visione diversa per poter consentire ai nostri giovani, alle persone che vogliono rimanere di poterlo fare. Abbiamo diversificato le opportunità, siamo riusciti a creare opportunità nei servizi, il litorale è un esempio incredibile d'estate, abbiamo raggiunto, parlano poco di Marina Iulia e Marina Nova, ma noi facciamo 10.000 presenze d'estate sul nostro litorale. La nautica rappresenta un segmento eccezionale, pensi che il rapporto tra il numero di imbarcazioni e territorio nella nostra realtà è il più alto di tutta Italia, anche più alto rispetto al Tirreno. La cultura ci ha dato la capacità di poter volare e di poter vedere che ad esempio con soddisfazione la Gnam di Roma e i musei civici di Venezia vogliono essere nostri partner. Ecco, tutto questo ovviamente comporta tanto lavoro e non è un lavoro che faccio solo io, io logicamente sono fortunata perché ho molta resistenza e lavoro moltissimo senza faticarmi troppo, ma è una grande squadra quella che abbiamo noi, con persone che amano lavorare, che si impegnano e che fanno squadra. E grazie a questo penso di poter dire che ecco, la nostra città e i nostri cittadini ma l'intero territorio può guardare al futuro in maniera più serena. I monfalconesi sono pronti per geografie, so che poi lei incontra spesso i cittadini, i comitati, parla vis-à-vis, tu per tu con loro, insomma sono immagino pronti ad accogliere questa quinta rassegna e quindi insomma partecipare a tutti gli eventi della città. Monfalconesi ovviamente devono esserci, non sarebbe possibile diversamente, però è un'occasione per tutti, è un'occasione per i cittadini di tutta la nostra regione. L'altro anno abbiamo avuto molti ospiti, devo dire, anche dalla Slovenia e anche dall'Austria. È un'ambizione che coltiviamo perché logicamente riuscire a offrire una città, non solo, questo non è un prodotto, questo l'abbiamo creato noi, quindi non abbiamo acquistato un prodotto, l'abbiamo costruito, l'abbiamo migliorato ed è una parte di noi. In Festival Geografie c'è una parte della città di Monfalcone, dei cittadini e c'è una parte della nostra storia, della nostra identità e ogni anno inseriamo qualche cosa di questo. Io penso che il tutto esaurito che abbiamo fatto praticamente quasi sempre, derivi anche da questo, dalla percezione che si riesce a dare dell'amore verso questa creatura. Penso che quest'anno abbiamo anche più completo per quanto riguarda proprio l'offerta e diversificata e questo forse attirerà un numero ancora maggiore di persone. L'ambizione che abbiamo è che i giovani partecipino. Guardi, gli adulti ci sono, gli anziani ci sono, i giovani mi piacerebbe che ci fossero ancora di più. E di cui l'importanza dell'opera delle scuole, il rapporto con i dirigenti scolastici, gli insegnanti insomma. Infatti che hanno partecipato e che devo dire hanno dato un grande contributo perché oltre alla mattina poi ci sono tanti eventi il pomeriggio. Tra l'altro con una grafica molto bella, un libricino molto chiaro, ma su tutti i social, logicamente quelli del comune, sarà possibile in ogni minuto vedere e capire che cosa si può gustare in quella giornata o nei giorni successivi. Ecco Sindaco, visto che abbiamo ancora due o tre minuti, spieghiamo appunto dove, a chi ci si può riferire a livello informativo, quindi le pagine social del comune di Monfalcone. Sì, noi abbiamo i Monfalcone 20, le nostre pagine social, ma una specifica per Monfalcone Geografie. Abbiamo poi distribuito questi libricini che sono fatti benissimo perché raccontano anche brevemente di che cosa si parlerà, però principalmente tutti i nostri canali che ormai sono molto diffusi. Dopodiché siamo sempre a disposizione perché l'Urp e l'Ufficio Cultura logicamente hanno tutte le informazioni anche le più dettagliate. La cosa molto importante da dire, io penso, è che comunque noi tutte queste iniziative le facciamo anche gratuitamente. Non capita sempre di avere la possibilità di vivere le mostre o di vivere realtà così anche di pregio, di prestigio e anche di contenuti gratuitamente. È una scelta che abbiamo fatto e che continuiamo a fare perché noi riteniamo che solo così riusciremo tutti ad approfittare e crescere attraverso quello che è l'obiettivo che abbiamo, cioè riuscire ad avere sempre più frequentatori, a pagarli anche con questi contenuti molto interessanti e però che siano alla portata di tutti perché altrimenti diventa più difficile ad esempio riuscire ad ottenere la presenza dei giovani a cui teniamo moltissimo. È certo, è certo. Bene, allora Monfalcone, geografie fra pochissimo il 22 marzo. Chi ha occasione... Dal 22 al 26. Dal 22 al 26 chi ha occasione ovviamente non può perdersi questi appuntamenti. Grazie al sindaco di Monfalcone. Grazie a voi. Grazie. Grazie telespettatori per averci seguito. Non mi resta altro da fare che augurarvi buon proseguimento. Grazie a tutti.